La presenza di Esma è una giornalista turca e di fede islamica. Abbiamo la presenza anche di Stefano Folli che è una firma laica della Repubblica. Siamo molto curiosi di vedere come questo mondo pensa e vede il fatto della persecuzione dei cristiani nel mondo. Mi sorprende e mi sono scioccata tanto di leggere le persone perseguitate o torturate per le loro fede. Io vengo da un paese, Turchia, dal Medio Oriente, che sono cresciuta e sono musulmana, non praticante, però non ci hanno insegnato queste cose, di perseguire le persone di altre religioni. Ovviamente è una crisi dell'umanità, non è una crisi delle religioni o dei fedeli.